Anche Cogli al Metauro ha il suo centro vaccinale. Si tratta della casa della salute lungo via Flaminia nella zona di Calcinelli. Ieri mattina sono iniziate le prenotazioni mentre questo pomeriggio sono partite le somministrazioni per le persone con meno di 60 anni. In questo distretto sanitario potranno rivolgersi i residenti dei comuni di Fano, di Cogli al Metauro, di Cartoceto, di Monte Felcino, di Sant'Ippolito, di Isola del Piano ed infine di Fossombrone. Due saranno le giornate da qui in avanti messe a disposizione, i mercoledì e i venerdì dalle 14.30 alle 18.30. A curare l'organizzazione è il medico Fabrizio Valeri in qualità di coordinatore dell'equip territoriale. Il nostro obiettivo è quello di vaccinare più gente possibile proprio perché usiamo un vaccino Pfizer e quindi possiamo prendere tutta la gente come abbiamo detto anche nei vari comunicati che le persone che praticamente si muovono, i ragazzi, la gente che lavora. Quindi per far sì che arrivando a settembre-ottobre tutte queste potenziali persone che girano non possono infettare le altre più deboli e quindi che siano immunizzati loro e sia anche una protezione per gli altri. Quindi è importante non essere iscritti in altri siti di vaccinazione. Quindi se qualcuno lo è qui non può venire e non si fa la seconda dose ma si fa le dosi iniziali e poi noi richiameremo e saranno richiamati per le vaccinazioni di richiamo, quindi per completare la vaccinazione. Abbiamo messo un massimo di 50 vaccinazioni al giorno, ha aggiunto poi il dottor Valeri, ma crediamo che prima o poi dovremo aumentare i numeri perché la richiesta è davvero tanta. Intanto nella giornata di oggi sono state 40 le dosi inoculate. Siamo molto soddisfatti di questo risultato, di questo centro vaccinale. Siamo anche sicuri che la cittadinanza darà una grande risposta in termini di partecipazione, anche perché siamo perfettamente consapevoli che la vaccinazione è l'unica strada per uscire velocemente da questo triste periodo di pandemia. Per prenotare occorre telefonare a questo numero attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12. Colgo l'occasione per ringraziare le associazioni che hanno contribuito in maniera concreta all'apertura di questo hub vaccinale di zona, in particolare il gruppo comunale di protezione civile, l'associazione In Viaggio lungo il Metauro, l'associazione nazionale Carabinieri in Congedo, l'Avis e tutte quelle che magari da qui in avanti potranno prendere parte attivamente alla gestione di questo centro. Il centro è di tutti e penso che sia giusto che ognuno dia proprio contributo.